Una visita per dire in bocca al lupo ai maturandi e per augurare buon lavoro ai docenti e a tutto il personale della scuola. Stamattina il nuovo dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, Tecla Riverso, e la consigliera metropolitana con delega all'istruzione Barbara Zara si sono recate all'alberghiero Colombatto di Turino, dove sostengono l'esame di Stato, 193 ragazzi e ragazze, divisi in dieci classe con cinque commissioni, formate da un presidente esterno e da docenti interni. Gli studenti del territorio della città metropolitana che sostengono la maturità quest'anno sono circa 17.000. Riverso e a Zara sono state accolte dal vicepreside Sergio Boero e dai docenti della scuola, che hanno duramente lavorato insieme ai tecnici del servizio di edilizia scolastica della città metropolitana per rendere possibile questo importante passaggio per i ragazzi, finalmente in presenza e in sicurezza. Abbiamo lavorato tanto per mettere in sicurezza la scuola e per attivare tutti i percorsi e le procedure previste dai protocolli. Alcuni anche siamo andati oltre il protocollo per essere certi che i nostri ragazzi possono rientrare nella massima sicurezza, rispettando le distanze, abbiamo installato il controllo delle temperature, abbiamo installato la segnaletica verticale e orizzontale, abbiamo creato dei nuovi percorsi di entrata ed uscita, abbiamo migliorato al massimo quello che può essere il distanziamento e il rispetto delle distanze e dei protocolli. Una maturità sicuramente diversa, quella del 2020, ma una maturità in presenza grazie al lavoro di tutti quanti, degli insegnanti, degli operatori scolastici, dei dirigenti. Tutti al lavoro per poter garantire ai ragazzi una maturità in sicurezza. La città metropolitana ha fatto la sua parte, abbiamo definito un tavolo di lavoro insieme ai dirigenti scolastici, all'ufficio scolastico territoriale, insieme ai sindaci e ai rappresentanti delle zone omogenee. In questo tavolo non si ferma alla maturità, ma va avanti, prosegue, stiamo lavorando in modo da creare una vera e propria sinergia di territorio per poter far riprendere ai nostri ragazzi a settembre la scuola in sicurezza. E quindi l'obiettivo è quello di traghettare questo momento particolare dalla fase 2 alla fase 3, in modo tale che quando ci sarà il suono della campanella i nostri ragazzi potranno tornare tra i panchi di scuola. Posso dire che la scuola piemontese è tutta, composta da amministrazione, dirigenti scolastici, personale ATA, ma gli stessi genitori tutti hanno portato la scuola piemontese a far sì che si arrivasse a questo momento, così importante per tanti ragazzi, sono più di 17 mila, all'esame di Stato. È un esame di Stato, come si è detto, ormai più volte particolare, però è un esame importante, per loro un momento importante della vita, che segna un passaggio fondamentale e che è già una prima conquista nel loro percorso anche di vita e di formazione. È stato molto emozionante, soprattutto perché sono stata anche la prima a passare, però è stata un'esperienza che comunque rimane.